signori dobbiamo stare larghissimi in Italia una strada colpo d'occhio bellissimo allora siamo circa 400 tra competitiva e passeggiata e c'è ora signori togliamoci dai volti facciamo partire partenza in bocca al uomo ragazzi divertitemi divertitemi è la quarta edizione della Tre Borghi il boccoloso a tutti ragazzi divertiamoci forza ragazzi giro unico e un saluto a tutti gli amici e amiche della passeggiata che avranno modo anche di divertirsi sul percorso riformarsi ad assaggiare le specialità dei locali facciamo partire 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 Grazie a tutti.